782 casi con una media giornaliera di 49 positivi. Sono i numeri dei primi 16 giorni di luglio che hanno portato ad una inaspettata inversione di tendenza dall'andamento della pandemia che a giugno aveva fatto segnare una brusca frenata. In tutto il mese di giugno i casi totali erano stati 551 con una media giornaliera di 18. La prima metà di luglio ha portato a raddoppiare e triplicare i parametri. La Sardegna in questo momento, secondo i vecchi parametri, presenta numeri da zona gialla. Ieri il report dell'Istituto Superiore di Sanità e Ministero della Salute indicava un R-T di 1.12 tra i più alti d'Italia e un'incidenza dei casi al 33,2%, dato che pone l'isola al primo posto in Italia. Numeri che preoccupano a causa della diffusione della variante Delta che presenta un alto indice di trasmissibilità. I dati confortanti arrivano dalle terapie intensive e dalle aree mediche che nel mese di luglio sono rimaste stabili, segno che al momento, per fortuna, la ripartenza dei contagi non sta avendo conseguenze. L'occupazione dei posti letto dovrebbe essere il parametro preso in considerazione dal Ministero della Salute per valutare il cambio di fascia. La notizia positiva è rappresentata dall'accelerazione sul fronte dei vaccini. A luglio sono state inoculate 206.000 dosi con una media di 13.000 al giorno. Per arginare i contagi, almeno quelli di importazione, il Presidente dell'Aggiunta regionale, Cristian Solinas, nelle prossime ore dovrebbe firmare una nuova ordinanza che ripristina i controlli Covid per i passeggeri che arrivano nei porti e negli aeroporti sardi, con particolare attenzione ai vacanzieri che provengono da nazioni in cui si stia registrando un alto tasso di incidenza dalla variante Delta. La Regione aveva chiesto che i controlli venissero effettuati negli scali d'imbarco, ma su questo fronte nell'Europa e nell'Italia hanno dato risposte concrete. La Sardegna vorrà ottenere due obiettivi, quello di evitare una ripartenza alla pandemia e il crollo dei flussi turistici dovuti alla difficoltà di accesso all'isola.